Bentornati carissimi amici in questo nuovo podcast in cui parleremo di un argomento veramente strano ovvero di tutti quei dispositivi high wear ovvero che si indossano per proteggere i nostri occhi quindi sostanzialmente quegli occhiali, quei recentissimi occhiali da sole che ci permettono di ascoltare musica, ricevere chiamate e tanto altro connettendoli al nostro smartphone tramite bluetooth. Ma prima di iniziare ci tengo a ricordarvi di iscrivervi al nostro canale youtube e di schiacciare sulla campanellina per non perdervi neanche un nostro video. E iniziamo a parlare subito di questi dispositivi, di questi occhiali da sole slash occhiali da vista che collegandosi tramite bluetooth al nostro smartphone ci permettono di ascoltare musica e ricevere chiamate tranquillamente senza mettere nessun apparecchio dentro al nostro orecchio. E appunto questi occhiali li abbiamo già visti, creati e rilasciati da Bose e recentemente almeno Huawei ha messo sul suo sito appunto questi dispositivi che presto verranno lanciati. Questi dispositivi che sono in collaborazione con Gentle Monster quindi una nota marca di occhiali da sole e occhiali da vista. E appunto tramite questa collaborazione sono nati questi occhiali da sole e da vista che ci permettono di ascoltare musica e ricevere chiamate. E una novità per quanto riguarda appunto questo dispositivo di Huawei è la riduzione intelligente del rumore. Infatti ottenendo una riduzione del rumore lineare grazie a un doppio microfono integrato in ognuna delle due aste degli occhiali, questo esclusivo design ha il merito di preservare la chiarezza audio durante la comunicazione. Infatti la tecnologia, l'intelligenza artificiale di riduzione del rumore ambientale ti permetterà di sentire con chiarezza sempre e comunque sia quello che ti arriva che quello che tu mandi, quindi la tua voce sostanzialmente. Questa cosa è veramente una cosa strana da sicuramente provare perché non si è mai visto degli occhiali da sole con la riduzione attiva del rumore perché comunque come già detto non c'è niente che entra nel nostro orecchio e in più hanno implementato un nuovo stile di ricarica che appunto è dotata questi occhiali di questa esclusiva custodia in pelle tra l'altro anche quindi una curata attenzione ai materiali che è stata appositamente progettata come un caricabatteria wireless. Quindi basta riporre correttamente gli occhiali al suo interno per avviare la ricarica dei nostri occhiali da sole così da averli sempre sempre carichi e ovviamente pronti all'uso. Questa custodia che poi a sua volta ovviamente deve essere ricaricata. Inoltre sulle asticelle tramite movimenti touch si possono controllare appunto tutte le funzioni, quindi mandare avanti una canzone, un brano, rispondere al telefono, abbassare il volume, alzare il volume eccetera. Comunque fateci sapere sotto questo video cosa ne pensate di questa tecnologia che forse è ancora un po' acerba. Comunque commentate sotto questo video e io vi ricordo anche di iscrivervi al nostro canale youtube, di schiacciare sulla campanellina per non perdervi neanche un nostro video e mi raccomando lasciateci anche un bel mi piace. Noi ci risentiamo in un prossimo podcast.